Griggo! Hanno detto che mi cercavi. Sei morto. Lascia libero il vecchio. Beh, che ti succede, Ramon? Ti trema la mano? O forse hai paura? Al cuore, Ramon. Se vuoi uccidere un uomo devi colpirlo al cuore. Sono parole tue, no? Al cuore, Ramon. Solo così puoi fermarmi. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto. Non dicesti così? Vediamo se è vero. Raccogli il fucile. Carica. E spara. Signori e signori, per un pugno di dollari. Brano per tromba, orchestra di fiati e percussioni. Alla tromba, Riccardo Pasquini. Grazie. 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 Grazie.